Ciao a tutti! Sapete cosa c'è qui? Qui dentro? Qui? Sì, ok, avete visto il titolo, quindi sapete benissimo cosa c'è, ma fatemi fare questa gag, insomma. Sì, c'è il Godox V1 per Fuji, per Fujifilm. Allora, sono tornato dal mio viaggio in Toscana, viaggio di lavoro, ma la Toscana, anche se ci vai per lavoro, è meravigliosa. E sono arrivato, ho trovato il pacchetto che mi ha lasciato il puntualissimo e bravissimo corriere Bartolini, l'ho aperto, volevo farlo un unboxing, però ero talmente emozionato che l'ho aperto immediatamente. L'ho scartato, l'ho tirato fuori, dentro non è che ci siano chissà quali accessori, sono tutti da comprare a parte, ovviamente. Allora, ho tirato fuori il flash, si presenta con una bellissima, la custodia si presenta con un passante per cintura, sganciabile, e questa volta Godox ha cominciato a fare le cose in maniera un pochino diversa, un po' più curata. Se guardate dentro c'è dell'arancione, sì, perché l'interno è arancione. Molto bella la custodia, fatta abbastanza bene. Dietro, quando togliete il passante, c'è anche una piccola taschettina dove potete mettere qualcosa, come per esempio il supporto per la base, insomma, dove poter appoggiare il supportino in plastica per appoggiare sul terreno il nostro flash, o per avvitarlo direttamente su uno stativo. Sì, perché normalmente viene messo qua dentro, ma la testa, sapete che il V1 è tondo, quindi, come dire, cozzerebbe un attimino con invece il supporto che è molto piatto, quindi ingombrerebbe un po', quindi è bella la trovata di metterlo sicuramente dietro. Apriamolo. Eccolo qua, Godox, vediamo se si inquadra bene, V1F, la F sta per flash. Ora, quanto è grosso il Godox V1 per Fuji, cioè come qualunque altro V1? Onestamente non mi sembra molto diverso dall'860, a parte la testa ovviamente tondissima. Ho qui la mia X-T3, glielo monto sopra, ed ecco le proporzioni con un... l'obiettivo è il 16-55, questo è il Godox V1 montato su una X-T3. Tolgo il tappo, ed eccolo qua. Lo vedete? Sono queste le proporzioni, ve lo faccio vedere anche da dietro. Tutto sommato, sono sincero, mi aspettavo un flash un po' più ingombrante, sapete bene, l'ho fatto vedere con la fotocamera, perché una delle cose che mi interessano anche quando vedo i prodotti nuovi online è le dimensioni. Quanto è grosso, quanto sarà, quanto occuperà, insomma, in termini di spazio, e devo dire che non è niente di eccezionale, quindi è abbastanza contenuto, tutto sommato. L'aggancio sotto non è più a rotellina da avvitare, ma è quello che viene utilizzato anche da Canon negli ultimi, forse anche da altri produttori, per agganciare il flash. Quindi è soltanto una piccola levetta che va a modificare e tira fuori ovviamente il perno sotto per bloccare direttamente il flash. Questo flash ha una caratteristica ovviamente, se è tirato giù si blocca e non si riesce a ruotare, tirato su leggermente si riesce a ruotare, ma soprattutto non solo arriva in verticale, ma è possibile anche ruotare la testa indietro di, non arriva a 45 gradi, sarà sicuramente qualcosa a meno. Però è comodo se nel momento in cui vogliamo buttare dietro la luce e usare la luce di rimbalzo, io la uso moltissimo, non si deve fare questa manovra, ecco, che è solo una gran perdita di tempo, basta soltanto tirare indietro così, ed è fantastico. Batteria, batteria a litio che viene dichiarata per circa 650 flashate, ricordatevi che questo è un 76 watt, quindi se lo paragoniamo a una luce da studio normale, il minimo per una luce da studio sono 200 watt comunque, e ve ne serve più di una, questo è un 76, tutto sommato non è così tanta cosa, ma ricordiamoci che è molto compatto e ce lo portiamo tranquillamente in giro. Viene definito, se non ricordo, da Godox come il più piccolo flash da studio portatile, e tra un po' vi farò vedere perché è una delle caratteristiche più interessanti. La batteria, schiacciando il pulsantino che c'è vicino alla gommina che copre anche le connessioni, esce lateralmente. Vi trovate, guardate qua, un buco gigantesco all'interno, perché la batteria è veramente ingombrante, è veramente grossa, occupa sicuramente meglio di 4 batterie stilo. Il carico batterie è un USB-C, come anche USB-C è la connessione che trovate, sarà dura farvela vedere, ma credetemi sulla parola, che trovate direttamente sul flash. Ovviamente non c'è modo di infilare la batteria in maniera sbagliata, ma ormai lo diamo per scontato. Caratteristiche di questo flash? Allora, le caratteristiche di per sé non sono una cosa che si differisce molto da un 860 o da altri flash, a di là della potenza, però è proprio un approccio un pochino nuovo. Intanto la testa tonda ci dà un'illuminazione ovviamente più tonda e non rettangolare come un flash normale. Ed è un'ottima, fantastica trovata. Effettivamente ho avuto modo di provare, ma vi consiglio effettivamente di provare, perché comunque descrivere o farvi vedere delle foto non è sufficiente a rendere giustizia a questo tipo nuovo di flash, che ovviamente fa anche, non mi metto in polemica ovviamente, profoto. Costa più di tre volte tanto il Godox, ma ovviamente come consigliano tutti, nel momento in cui avete un sistema già profoto, compratevi il profoto, perché si integra tranquillamente nell'ecosistema. Questo è invece un sistema Godox, quindi proprietario effettivamente dei suoi sistemi di trasmissione. Allora, diciamo delle caratteristiche. In realtà le caratteristiche sono più o meno le stesse, quindi altissima velocità anche di scatto, HSS, ma cosa si distingue? In cosa si distingue questo dagli altri flash e soprattutto da quelli già ottimi di Godox? Allora, intanto controlla gli altri flash, ma non li controlla come master e slave, come succede con i flash normali, per cui tu devi mettere a posto il flash slave, e il master lo devi mettere a posto per i fatti suoi, devi vedere la luce più o meno come funziona. No, ha un controller interno con sistema X di Godox, quindi effettivamente dal display andiamo a controllare gli altri flash esterni, gli altri gruppi, tra cui anche ovviamente il... ho provato il mio Godox AD200, che è un flash esterno. Ora, perché Godox lo chiama il più piccolo flash da studio portatile? Allora, lo accendo, è acceso, non so se lo vedete, fidatevi. Guardate cosa... una delle caratteristiche di questo... Onestamente non ho... corriggetemi se sbaglio, ma io non ho mai visto un altro flash con questa caratteristica. Guardate, 3, 2, 1... Tac! La luce pilota, che vediamo se riusciamo a far vedere anche... ecco qua, sto aumentando l'intensità da 10 a 1. C'è un piccolo LED qua sotto, molto potente evidentemente, che ci dà la possibilità di utilizzarlo come luce pilota. Utilizziamo la luce pilota e possiamo fare le flashate. Quindi, se ci troviamo in situazioni... il problema grosso è anche dei flash. Magari se sei in una situazione di buio, no? Allora, o utilizzi le flashate continue per cercare di far mettere a fuoco la fotocamera, ma hai veramente delle flashate minimi con un... tempi di flashate minimi con anche un dispendio di energia notevole perché utilizzi la lampada interna. Ma normalmente cosa succede? Che magari in situazioni buio non riesci a mettere a fuoco... Il flash lavora, lavora in Tdl, ci mancherebbe, ma magari canna l'ha messo a fuoco. Non la sbaglia completamente. Con questo, invece, abbiamo direttamente la luce pilota che va a rimbalzare un po' dove vogliamo e la possiamo puntare direttamente sul soggetto. Si spegne durante la flashata, flashata Tdl, e noi abbiamo la nostra fotografia che sicuramente è più messa a fuoco rispetto a quelle fatte a tentoni in situazioni di buio. Quindi, gran gran bella cosa, devo dire, assolutamente. Dunque, altre cose da dire? Effettivamente non ce ne sono molte, a parte tutte le funzioni che ci sono in un flash standard, come dicevo prima, quindi anche questo può essere un Master, Slave S1, S2, possibilità comunque di spegnimento automatico, bla bla bla, una serie di altre cose. Ma rispetto, ripeto, le caratteristiche non sono mostruosamente diverse rispetto ad un altro flash, ma quelle poche che ci sono ci danno veramente la misura di quanto questo flash è stato sviluppato bene. Ora, io ho acquistato anche, a parte, questa scatoletta, vi vedete? Questa scatoletta, più o meno nelle stesse dimensioni, contiene, l'avevo già fatto vedere in un altro video, gli accessori per il V1, che sono questi. Vediamo, ve li faccio vedere, se si riescono a vedere. Sono veramente confezionati molto molto bene, devo dire, e sono gli stessi accessori che possono essere utilizzati col flash tondo da montare sulla D200, che praticamente si ritrova una testa di questo tipo, sempre e comunque da 200 Watt, quindi qualcosina di più potente. Allora, la cosa più interessante, onestamente, di questo V1, come accessorio, è la cupola, come si attacca? È tutto, tac, scusate, ho sbagliato, magnetico, si attacca magneticamente, quindi ci sono, c'è una ghiera qui intorno che è metallica, e dei piccoli magneti sugli accessori, quindi si attacca il tutto del magnetico. Questa, onestamente, è la cupola a diffusione e a 180 gradi, che a me interessa e probabilmente utilizzerò di più in assoluto, mi piace molto, ma ovviamente ci sono anche altre caratteristiche con questi accessori che possono essere interessanti, come lo snoot, tac, lo mettete sopra e diventa un piccolissimo snoot, per avere una luce molto più puntiforme sul nostro soggetto. Adesso vi faccio vedere altri accessori. La griglia, tac, a calamita, vediamo se riesco a farvela vedere, a calamita, anche questa, viene agganciata sopra, e voilà. Ciò non toglie che possiate utilizzare la griglia con sopra la cupola. Tutti questi accessori sono cumulabili uno sopra l'altro, potete fare un pastrocchio incredibile e sono veramente versatilissimi. Altro accessorio assolutamente, ovviamente, essenziale, tac, sempre con calamita. Cos'è questo? Dovinate cos'è? No, non potrete mai indovinare perché ne manca un pezzo. La famosissima, taran, aletta, la aletta, che oramai è un danni integrato anche all'interno dei flash standard, che, tac, possiamo chiudere tranquillamente così, e riaprire, ovviamente, anche modulando quella che è l'angolo di alettaggio di questa aletta qua. Possiamo toglierla. Cosa abbiamo d'altro? Qui andiamo avanti veramente... Allora, qui abbiamo un diffusore ulteriore opaco, non so se si riesce a vedere, probabilmente per, anzi sicuramente per angoli maggiori, perché ci sono dentro le micro piramidi, per i grandangoli, in realtà non si riesce a vedere benissimo in fotografia. Questo che è forse l'accessorio più scenografico, in realtà mi piace molto, non so effettivamente quanto potrò utilizzarlo, ma le mega alettone per dirigere la luce, e voilà, ecco cosa avete trovate, tac, anche questo ruotabilissimo, le alette sono tutte molto, molto mobili, fatte, devo dire, abbastanza bene. Dulcis in fundo, non li ho neanche aperti, filtri. Ci sono cinque filtri, anzi scusate, sei filtri di sei gradazioni diverse, tutti ovviamente filtri caldi per scaldare l'ambiente, che vanno montati, probabilmente se ne possono montare fino a tre, quindi, accidenti, fino a tre, su questa ghiera ci sono le sedi, quindi fino a tre filtri, per avere un tono veramente caldissimo, e anche questi sono calamitabili, e si agganciano direttamente sul nostro flash. Mi sembra di fare una televendita, ma in realtà non è così. Che altro dire? Dunque, la pesantezza è quella, meno male, di un, forse più leggero anche, di un 860. È fatto veramente molto, molto bene. Vi posso dire che la velocità di ricarica del flash, Allora, fatemelo mettere in manuale, scusate ma devo ancora... Ok, sono in manuale, ha 100% di potenza, vediamo se riesco a farvi sentire il beep di ricarica. Sentite? Ok, e vedete anche, immagino, perché vedete anche la flashata. Ok, questa è la velocità di ricarica a pieno. Vediamo la velocità di ricarica tipo a un quarto, un quarto preciso. Pronti? Pressoché immediata. Se scendiamo ancora a tipo un ottavo, continuo a flashare. Probabilmente non si vede, ma sentite che a un ottavo già tira fuori una quantità di flashate incredibile. Quindi, proprio la potenza, anche all'interno di ricarica, ed evidentemente anche della batteria, sono veramente notevolissimi. Allora, il firmware, tra l'altro, di questo flash Fuji è l'1.0. In realtà, ho guardato quelli Nikon e Canon, siamo già all'1.2.4, anche quello Sony, quindi a breve probabilmente uscirà qualcosa. In realtà, questa versione qua, Fuji, non si trova ancora facilmente. C'è stato un venditore a cui ho rotto le scatole in una maniera incredibile in Inghilterra, che mi ha mandato una mail esasperata dicendomi ne ho uno in casa, mi è arrivato per sbaglio, te lo tengo via, mandami il pagamento e te lo spedisco. E effettivamente è così. Però in realtà, la distribuzione dovrebbe avvenire veramente entro giorni. Entro pochissimi giorni ci dovrebbe essere qualche novità, qualcosa che si smuove. Allora, il flash costa intorno ai 280 euro, più o meno, qualcosina meno, qualcosina di più, ma siamo lì. La scatola degli accessori non è economicissima, ma ve la consiglio perché sono accessori che vi servono e sono 60 euro. 60 euro che trovate tranquillamente anche su Amazon perché sono gli accessori appunto anche del D200 con la testa tonda. Dunque, col trigger che io ho, anche l'X1, scusate, l'X Pro, il trigger X Pro di Godox che attualmente non ho qui, c'è ovviamente la possibilità di controllare questo flash. ho provato ed è una cosa meravigliosa controllare questo flash e controllare anche la D200. Li potete controllare in tutto e per tutto, EVI compresa la luce pilota. Cosa vuol dire? Che se avete il flash piazzato lontano da una parte e lontano dall'altra, ma avete bisogno di accendere la luce pilota, la potete fare tranquillamente anche dal trigger. Oltre al poter comandare TTL, manuale, gruppi, compensazione, potenza, manuale, insomma, tutte queste cose qui lo potete fare tranquillamente dal trigger che è veramente bellissimo. Fatto veramente molto bene. Io l'ultimo trigger di questa portata, cioè comunque così controllabile, l'ho avuto quello Canon che si faceva tanto, funzionava abbastanza bene, il sistema se non sbaglio si chiamava RT, però era molto molto costoso. invece qui stiamo veramente abbassando i prezzi con maggiori controlli anche da un punto di vista software molto molto più versatile e ho dimenticato qualcosa, nel senso io credo di aver detto tutto. È una quick review questa, però in realtà teniamo presente che non ho parlato molto dell'aspetto tecnico, vi ho fatto soltanto vedere un po' cosa è venuto fuori insomma da questo Godox V1 che vi dico la verità cioè vi dico la verità è bello cioè proprio bello da tenere in mano è proprio una senti che c'è qualcosa di nuovo e non vedo l'ora di provarlo oggi ho un altro lavoro continuo a lavorare praticamente altranza purtroppo lo vedete dal fatto che comunque i video latitano un attimino settimana prossima credo spero di riuscire a fare effettivamente un video alla settimana perché vorrei parlare anche di altre cose io vi compresa la nuova Hasselblad e ditemelo ho dimenticato qualcosa se ho dimenticato qualcosa scrivetemelo sotto perché sono pronto a rifare un altro video e parlare magari un pochino più nello specifico ma credo di essere stato sufficientemente esauriente ecco l'unica cosa che non ho provato è la griglia pilota che c'è sotto nella parte rossa che c'è che c'è qua che a quanto pare con le mirrorless può creare qualche piccolo problema e visto che Fuji comunque fa solo mirrorless sostanzialmente si direi fa solo mirrorless ormai la griglia potrebbe effettivamente non aiutare così tanto l'autofocus però abbiamo appunto questa luce pilota che è veramente veramente meravigliosa ok un led solo quindi se voi piazzate come fanno in molti ma a me non piace molto sopra la macchina fotografica uno di quei pannelli a led è ovvio è ovvio che comunque la luce è un po' più diffusa rispetto a quella di un singolo led però meglio che niente qua abbiamo un flash che è una meraviglia è tutto in uno quindi tant'è ci accontentiamo mica puoi come dire circondare di led la la parte illuminante insomma forse si potrebbero allora altre cose da dire no non ce n'è quindi io chiuderei qua per oggi il video che come al solito vi invito a likeare quindi mettere un like lasciarmi un commento un suggerimento o anche delle domande perché ahimè qualcosa ogni tanto mi dimentico ma ovviamente vi invito a iscrivervi al canale a attivare la campanella dare un occhio al canale telegram che c'è sotto in descrizione dunque questo video andrà online il lunedì perché tendenzialmente non mi piace mettere i video sabato e domenica ma in realtà questo video lo sto facendo di sabato mattina perché sono rientrato ieri sera e ieri sera appunto ho trovato il pacco col Godox V1 per oggi è tutto quindi e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti